Signore, qui abbiamo un grande applauso sulla Universal Dance, capitanata da Giuseppe Lodonce e Anna Giordano, eccoli qua, si esibiscono in una loro coreografia messa su con Gioia e Rina, è proprio Universal Tango. Universal. Universal. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.